Ok, ci siamo! Finalmente la prima puntata di Garage Fit e siamo qua per voi, per fare un po' l'attività a casa qua. Iniziamo tutti insieme, mi dedico tutta questa lezione a voi, a tutto il gruppo, tutto il gruppo che conoscete già, che ci conosciamo, McFit, Piacenza, ma anche tutti quelli che potranno vedere. Partiamo! Ok! Questa musichetta è molto carina, iniziamo a seguire il tempo, facciamo a destra, così, dai! Iniziamo il secondo, usiamo le spalle, dietro, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2, 4, e avanti, levate bene le spalle, e giù, avanti, e dietro, avanti, dietro, 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 e ok! Ok! E qua! Andiamo il tempo, spostiamo il peso dalla gamba all'altra, andiamo in punta, 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 ok! 5, 6, step touch, chiudo, 8, 6, 5, 4, 3, sulla gamba, giocco al petto e... 5, 6, camminare lo spalle, 4, 3, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 2, 2... 4, 3, 2, e talone dietro! Chiudo il step touch, 4, 3, 2, e aggo su! 4, 3, 2, e aggo così! 1, 4, 3, 2, 1, 4, ginocchio aperto su, 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 stiamo due giù, punta, punta, e 4, 6, 1, 2, 2, 3, e su, ancora, e stiamo in giù, 7, 6, 1, 2, 3, unino avanti, destra, 7, 6, 1, 2, 3, 2, studia al cuoco qua, bingo be, è così, 4, 4, 5, 6, ora, 4, 20, più, nuovo,桜, e 4, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, Rallentiamo un po' Iniziamo un po' Piano, scendo e salto Scendo, salto, scendo Ancora 4 volte 3 2 1 2 4 Ok Rallentiamo un po' Rallentiamo l'interno Rallentiamo un po' Puglia su Un po' di stretching Ci no, più una col pallone Siamo qua in posizione Ok Rallentiamo 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 5 6 6 7 8 8 7 7 6 5 4 6 7 8 8 8 8 8 9 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 8 9 8 10 10 9 10 5, 4, 3, 2, 1, fuori 8 qua, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, frontale 8 e su e giù, su, giù, su, giù, su, ancora 4, dai così, sollevo bene, altezza spalla, ancora 1 e stiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, andiamo a serie di 4 dicipiti, 4, 3, 2, 1 e fuori e torno, fuori e torno, fuori e torno, l'ultima, 30, su, su, così, bravi, ancora 2 e stiamo, 3, 4 dicipiti, 3, 2, 1, 2, 4, 4 dicipiti, per chi vuole aumentare le bottiglie, ok, fuori qua, 4, 3, 2, frontale 4 e su, bam, e giù, bam, e giù, bam, stiamo su 4, 4, 3, 2, torniamo e giù, bam, stiamo, 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 stiamo la gamba è conto di andare così siamo sotto la genuta dai fuori e su giù giù stiamo stiamo qua otto sette sei cinque quattro tre ora portiamo in posto vamo verso l'alto e sul piano otto sette così sei cinque quattro va ultimi wow bu non 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 il lo non non che sta a Inocchio in linea col tallone E il tallone indietro Solte lato Non chatteriamo Lavoriamo 8 7 6 5 Così, così 4 3 2 3 tempi in bolleggio 3 2 1 Che musichetta ragazzi, vai! E ancora Molleggio, molleggio, molleggio E su, vai! 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 Ancora 4 volte Già! Dai! Wow! Yeah! He! 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 Ancora 2 volte così Dai! Dai che ci siamo! Ora facciamo uno stop 3 tempi stop E 3 2 1 E saldo 3 2 1 E su 3 2 1 E su 3 2 Ancora 4 volte così Scendo E su E su Scendo E su Scendo E su Scendo Rimettiamo la capo 4 volte Scendo 1 1 2 3 1 4 volte così Fa 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 E su Molleggio Così 5 volte così 5 movimenti Ancora 1 3 tempi stop Ora 3 2 1 Wow! 3 2 2 1 Ancora 3 2 1 3 2 1 Ok! Vai! Bravissimi! Wow! Ora Andiamo le bottiglie vicino al corpo Facciamo finta che sia un kettlebell O un vischio O un peso Proviamo un po' le gambe La apertura Oltre le vostre ante Ok! Ok! La punta Venti Qua dal destra All'interno Ok! Scendiamo il suo piano E salvo piano Ok! Un po' di serie 4 tempi piano Giù 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 Salvo 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 Ancora 4 Giù 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 Salvo Salvo 3 1 3 2 1 E salvo 3 2 1 E salvo 3 2 1 Salvo Una volta 2 2 E 2 giù 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 19 19 15 20 20 30 25 20 20 21 21 22 22 22 22 23 23 Ancora Vai Dai 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 Su 3, 1 2 3 tempi Su Dai così Ancora 2 volte Scendo 3 tempi E salto 1 Ultima Ora facciamo 2, 2 Yes 2 giù 2 su 2 giù 2 su Vai così 2 giù 2 su 2 giù Molleggio 2 volte E dai Ancora Wow 2 volte Vai Dai Dai E Uno stop E le bottiglie vai Uno Stop Su Su Uno Drop Su 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 Uno Su Ok Wide E Di nuovo Siamo un po' aperti Ok Il peso Va sul tallone Lavoriamo di più con i due Ok Con i due E E Ci andiamo bene No Più linda col tallone Se Andiamo avanti E Un 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 E Un Ultima 2 2 3 Secondo 2 2 2 Bravo Ultima 3 momenti, l'altra volta 4 volte, su, su, scendo, salgo, salgo, scendo, salgo, scendo, salgo, ok wow, 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 yeah, andiamo ancora con le bottiglie, un litro adesso, fanno 3 kg scendiamo e saliamo, in che modo? sempre l'apertura gambe, un po' oltre le vostre anche la punta del piede guarda sempre verso l'esterno sempre le bottiglie vicino al petto, scendo e salgo, ok non vado giù in squat, scendo e salgo, senza scendere troppo, ok, 8 volte quando andiamo in stava, andiamo per fare i tricipiti, ok sequenza di 8, 4, 2, 1 stiamo, pronti, preparateli 5, 6, 7, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 ora, 8, 8, 7, così o no, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 25, 26, 28, 29, 22, 24, 26, 28, 24, 27, 29, 23, 29, 28, 28, 29, 29, 28, 29, 29, 29, 29, 30, 29, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2 4 Ancora 2 più di un vrij 5, 6, 7, 8 4, ancora ancora ragazzi Ancora una serie Dai 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 Non fermatevi a bere 3 Stingolo Poi inzo Giù Su Dietro E uno 4 Nessiamo a 2 1 2 1 1 Aspetta bene Scendo dietro 10 Stando Stando E 2 3 E così Così 1 2 3 9 9 9 9 9 10 10 Ok Vai Stiamo 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 17 16 19 19 19 18 19 20 19 20 19 20 21 20 21 21 21 20 21 21 22 Ciao Ciao Mi stavo la partaterra Vengo Arrivo subito